Ciao amici! Tra di voi chi digerisce bene e chi digerisce male? In ogni caso digerire meglio e migliorare la digestione fa bene a tutti. Prima di tutto vediamo di capire se digeriamo bene o digeriamo male. E come facciamo a capirlo? Se dopo mangiato proviamo un senso di pienezza, nausea, pesantezza, gonfiore o sonno, vuol dire che la quantità di cibo supera la capacità di digestione. Oppure troppi tipi di alimenti diversi arrivano nello stomaco e si creano miscele indigeribili. Se il cibo non viene scomposto nel modo giusto lo stomaco non si svuota nei tempi normali e il cibo ristagna a lungo creando gonfiore e pesantezza, con sonno e abbiocco. Per fortuna ci sono i rimedi della nonna per migliorare la digestione per tutti. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco i 6 migliori digestivi naturali e come si preparano velocemente a casa. 1. Il canarino. Basta prendere un limone possibilmente biologico, sbucciare la parte gialla senza arrivare al bianco che risulta amaro, puoi fare bollire le bucce in due tazze di acqua per 5 minuti, lasciare raffreddare e bere tiepido a piccoli sorsi. 2. Il bicarbonato. Tutti abbiamo in casa del bicarbonato di sodio. Per digerire meglio mettere mezzo cucchiaino in mezzo bicchiere di acqua e bere tutto d'un fiato. Conosco il risultato, fa rumore ma funziona. Un piccolo trucco è berne un po' prima o a metà pasto se si sta davvero esagerando. 3. Lo zenzero. Se avete in casa dello zenzero potete fare un decotto, basta tagliare 2 centimetri di radice di zenzero, sbucciarla, tagliarla a pezzettini e farla bollire in una tazza di acqua. Bere a piccoli sorsi e se lo si desidera aggiungere un cucchiaino di miele. 4. La camomilla. Per digerire è farsi una camomilla ma molto concentrata fino a 6 bustine in una tazza da lasciare in infusione per 6 minuti. Aggiungere mezzo limone spremuto. Addirittura la concentrazione è importante, sorseggiare molto calda e senza zucchero. 5. La liquirizia. Se avete delle caramelle di liquirizia in casa potete usarle dopo pasto. Attenzione però che la liquirizia alza la pressione e quindi tenere la dose sotto controllo. 6. I semi di anice o di finocchio. Fare una tisana con due tazze di acqua e un cucchiaio di semi e lasciare infondere per 5 minuti. Bere puro senza dolcificare. Funziona anche mettere in bocca un cucchiaino di semi e masticarli a lungo per estrarre subito gli oli essenziali con il principio attivo digestivo. Ah beh, questo è un modo pratico e veloce. Se vuoi conoscere altri consigli e ricette per stomaco e intestino sano in modo naturale basta iscriversi al mio canale e guardare la playlist dedicata. È facile, basta un clic così e attivate tutte le notifiche per essere avvisati quando escono i miei nuovi video. Vivi naturale e vivi meglio. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!